Ciao a tutti e a tutte, bentornati e bentornati in un nuovo vlog. Allora, oltre al fatto che nella mattina sono stata un po' fuori, venerdì non ho fatto niente di speciale, solita routine. Sì, in questi giorni mi sono divertita a cucirmi questi braccialetti, che uno mi è venuto anche corto, però l'ho messo qua per decorazione. E, oltre a quello niente, tutto non male, praticamente poi siamo stati un po' a fare spesa, controlli e cose del genere, e tutto non male. Oltre a quello niente, mi sono anche annoiata, se devo essere sincera, venerdì sono stata tutto il giorno a casa perché dovevo stare un po' con mio padre. Sì, mi sono fatta queste unghie nere e queste altre rosse. Non è che mi piaceva granché, però. Ormai, ormai ho dovuto accontentarmi. Allora, per oggi è tutto, lasciate like, iscrivetevi al canale se volete unirvi alla Asafamily, e noi ci vediamo domani con un nuovissimo vlog. Ciao!